L'epifania non si porta via alla stagione sciistica. Nonostante le giornate con temperature nettamente superiori alla media che hanno portato alla chiusura di alcune piste, da Cortina alla Marmolata, da Faicchiare ad Alleghe, sugli impianti di risalita la gente non manca. Quest'anno la neve è arrivata al momento giusto. Il fatto che è arrivata la neve invoglia tutti a venire a sciare. Questo dimostra la volontà e la voglia di praticare lo sci dopo due anni di crisi Covid. Una stagione che fa quindi sperare possa proseguire fino a Pasqua, magari con nuove precipitazioni. E a beneficiarne sono non solo i comuni dove ci sono gli impianti di risalita, ma anche quelli che offrono strutture alberghiere preziose e necessarie per ospitare sciatori che per le piste del Dolomiti arrivano da tutto il mondo. C'è un movimento, pur non avendo noi piste da sci in loco, c'è un movimento perché Pieve di Cadore comunque rappresenta un punto di riferimento anche per le località dove ci sono le piste. Quindi il punto di salberghiere, il punto di salberghiere, il punto di salberghiere turistico si aspetta una buona stagione? Sì, credo proprio di sì. Anche l'ultima nevicata di sicuro ha alimentato, ha oleato il volano di promozione turistica che interessa anche un centro come Pieve di Cadore.